Lei non aveva alcuna autorità, nessuna. Città del Messico, che cosa ci faceva lì? Il sottoscritto non scherza. Che cosa succede? Dicono che sei finito. Balle! Secondo me hai appena cominciato. Magnifica, vero? Da zero a cento in tre secondi e due, con qualche trucchetto nella manica. Mentana! Salvini! Vergogna! Va bene. Infame! Che schifo! Giornalista! Di merda! Non se ne può più. Oh! Vaffanculo! Lui è ovunque. Se lei va lì, passa in un mondo dove non esiste pietà. Sta lontano da me! Perché dovrei fidarmi di te? Perché c'è la necessità di unire tutti i giornalisti. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Mi sta facendo dei segni che non vi voglio neanche raccontare. Perché l'idea, senza il mercato commerciale, è shish. Il movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull'euro. Il movimento ha sempre fatto. 멋za. Autore dei sorrisi Autore dei sorrisi